Offrire a quanti decidono di visitare il Cilento interno l'opportunità di immergersi nella storia, nell'arte e nella cultura dei burghi, veri e propri scrigni di tesori nascosti e bellezze da scoprire, è l'obiettivo delle passeggiate nei burghi, organizzate nell'ambito del POC Campania 2014-2023 per il progetto Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore, che coinvolge i comuni di Roccadà, Spidente, Capofila, Bello Sguardo, Castelcivita, Magliano Vetere, Monteforte Cilento e Sant'Angelo a Fasanella. Lo scorso fine settimana le passeggiate nei burghi hanno fatto tappa a Sant'Angelo a Fasanella, grande successo per la visita guidata e gratuita nel borgo. I partecipanti si sono ritrovati nel primo pomeriggio in Piazza Ortale, dove sono stati accolti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaspare Salamone e dalla dottoressa Mafalda Inglese, responsabile della società MyFair che sta curando l'organizzazione del progetto. Le passeggiate esperienziali attraverso i sentieri di luoghi delle tradizioni più radicate e emblematiche dei sei borghi cilentani sono iniziate domenica 7 aprile da Roccadaspide e la prossima tappa si terrà sabato 11 maggio nel borgo di Bello Sguardo. I visitatori che hanno raggiunto Sant'Angelo a Fasanella durante la scorsa domenica hanno potuto ammirare i vicoli del centro storico, hanno potuto assistere alla rievocazione medievale ammirando chiese, antichi portali nobiliari, la panoramica Piazza Castello e vivere l'incontro con il conte Manfredo attraverso uno spettacolo suggestivo in cui è stata riprodotta l'apparizione dell'Arcangelo al conte Manfredo presso la grotta di San Michele dove si è tenuta anche la celebrazione della tradizionale novena in vista della festa di San Michele. La rievocazione storica è stata curata dall'associazione Leali di Fasanella e prima di salutarsi i partecipanti hanno potuto degustare i piatti della tradizione, ascoltare e vedere balli e canti cilentani ed ammirare il tavolo scenico medievale con Manfredo, il suo falcone e i di cacciatori in una giornata che ha permesso a tutti di immergersi pienamente nella storia e nell'atmosfera che Sant'Angelo a Fasanella ha regalato.